Quest'anno il viaggio Geox for Valemur ci ha portato a realizzare sogni molto speciali. Speciali come i personaggi a cui i nostri ragazzi hanno voluto regalare la nuova collezione. Speciale come il sogno di autonomia e indipendenza che stiamo aiutando a realizzare, avvicinando sempre più persone con disabilità intellettiva al mondo del lavoro. Geox for Valemur. In viaggio verso l'autonomia. Grazie.